Ciao a tutti, bentornati su festecompliani.com il tutorial dove vi spiego come fare delle bellissime sculture con i palloncini oggi vedremo insieme come fare un bellissimo fiore benissimo, prendiamo un palloncino, lo gonfiamo completamente ed andiamo a fare i petali del fiore unendo con un nodo le due estremità del palloncino in questa maniera ok, una volta ottenuto un cerchio lo chiudiamo ed andiamo ad effettuare una torsione semplice in mezzo all'anello benissimo, ora inseriamo il primo anello dentro il secondo in questo modo per fissare il palloncino giriamo i due petali tra di loro una volta ottenuta questa figura, basta schiacciarla dall'alto verso il basso e magicamente appariranno i petali facciamo una leggera pressione in mezzo e andiamo a girare due petali in modo da fissarli ecco pronti i petali del fiore, mettiamoli da parte per un attimo per costruire il gambo del fiore prendiamo un palloncino, possibilmente di colore verde, lo gonfiamo, non tutto quanto però lasciamo fuori due o tre dita libere ok, schiacciamo ed andiamo a formare una bolla d'aria alla fine del palloncino in questo modo ok, prendiamo i petali, appoggiamoli sopra in questo modo e facciamo fare al palloncino un giro tutto intorno ai petali per fissarlo sistemiamo i petali e abbiamo il nostro fiore ora non ci resta che fare le foglie prendiamo il palloncino rimanente e gli facciamo fare una forma ad S in questo modo facciamo una pressione e con una torsione magicamente appariranno i petali et voilà, ecco il vostro bellissimo fiore ciao